Ciao a tutti gli amici appassionati di trading online e benvenuti oggi voglio farvi vedere un'operazione in spread che abbiamo aperto sullo zucchero e voglio farvi vedere come l'abbiamo aperta, come l'abbiamo gestita fino a questo momento e soprattutto quanto abbiamo guadagnato fino a questo momento prima però facciamo un breve ripasso che non fa mai male quando parliamo di spread trading ci riferiamo all'acquisto ed alla contemporanea vendita dello stesso sottostante in questo caso zucchero acquisto, contratto con scadenza ottobre 2016 e vendita contratto con scadenza maggio 2016 SB infatti si riferisce al simbolo dello zucchero sul mercato in cui è quotato V è il simbolo del mese di ottobre, 16 è l'anno di riferimento K è il simbolo del mese di maggio quello che vediamo qui è il grafico dello spread in cui compaiono tre righe una riga nera che rappresenta lo spread di quest'anno la riga blu che rappresenta la media del movimento dello spread negli ultimi 15 anni e la riga rossa che rappresenta la media del movimento dello spread negli ultimi 5 anni abbiamo aperto l'operazione in corrispondenza di questo livello quando il valore dello spread era di meno 0,30 valore che è ottenuto semplicemente sottraendo al valore del contratto di ottobre quello del contratto di maggio avevamo previsto un rischio di 100 dollari per contratto e siamo entrati con tre contratti abbiamo chiuso il primo in corrispondenza di questo punto a raggiungimento del primo target di profitto ed il secondo in corrispondenza di questo punto a raggiungimento del secondo target di profitto intascando con il primo 122 dollari e 96 centesimi al netto delle commissioni e con il secondo 212 dollari e 56 centesimi al netto delle commissioni abbiamo ancora un contratto aperto che stiamo gestendo con la tecnica del trailing stop vediamo come va male che vada lo chiudiamo in pareggio andando a ragionare un po' sui numeri abbiamo intascato fino a questo momento 335 dollari e 52 centesimi considerando che per aprire la posizione il broker ci ha richiesto un margine di 217 dollari a contratto quindi 651 dollari totali abbiamo fatto una performance del 51,6% sul capitale a margine e del 111,84% sul capitale che avevamo deciso di rischiare quindi 300 dollari iniziali certo qualcuno potrà dire che 335 dollari in un mese non sono tanti noi vi rispondiamo che facendo due o tre di queste operazioni durante il mese si arrotonda tranquillamente lo stipendio certo per arrivare a questi livelli ci vuole studio e impegno però con l'aiuto di esperti come noi e con il lavoro di gruppo possiamo tranquillamente arrivare ad avere questi risultati bene amici come al solito per qualsiasi domanda e informazione vi rimando al nostro sito Amica Borsa io vi saluto, ciao a tutti da Luca